E' bella ragazzi qui sui libri ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati Incredibile ma vero come ogni venerdì In compagnia del nostro omino ma soprattutto della poltroncina degli acquisti E oggi probabilmente acquisteremo uno di quei veicoli che ci deluderà parecchio Io ne sono già sicuro Vi dirò la verità in cuor mio spero che sia soddisfacente Ma so già che non lo sarò Cioè non che non lo sarò che non lo sarà E quindi in mega f per noi ragazzi Perché il veicolo della quale stiamo parlando è il dinghi armato Sì dinghi armato Ah comunque il verus è ancora gratis pigliatelo Dinghi armato che tra l'altro è una truffa perché il dinghi normale costa 125.000 Cioè ragazzi io dico ma come come che chi è Chi è dentro rockstar games che sceglie i prezzi Com'è possibile che con l'aggiunta di una mitraglietta su Da 125.000 passiamo a 1.850.000 Vabbè ragazzi posti a sedere ne ha 5 abbiamo una mitraglietta su Sarà iper mega deludente sarà un veicolo Pegasus non sarà modificabile quindi che schifo Però esca un DLC sulle barche che ti permetta di modificarle e così via però Magari tutti questi acquisti un giorno ci torneranno utili andiamo a leggere la descrizione Vuoi dare vita a un assalto anfibio al confine militarizzato di qualche paese Vuoi difendere la tua umile villetta al mare Grazie alla sua mitragliettrice calibro 50 fissata sul davanti Questo piccolo dinghi manderà un messaggio molto chiaro agli eventuali trasgressori Proiettili e gommoni possono davvero coesistere? Dicelo Boh ragazzi acquistiamolo veramente Cioè per una mitraglietta Io sto male ragazzi Boh vabbè l'abbiamo comprato e Veramente per una mitraglietta per una mitraglietta E' come almeno era modificabile era più veloce De qua della no una mitraglietta Una mitraglietta Ma dunque ragazzi io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like Mi raccomando superiamo assolutissimamente i mille like Se volete altri video di questo tipo dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli di getti online Ma come al solito vi invito anche a condividere il video come da matti su tutti i vostri social Ed iscrivete al canale per non perdervi i futuri video Se lo fate siete dei grandi Mi raccomando iscrivetevi poiché più del 60% delle persone che guardano i miei video Non sono iscritte al canale Quindi cosa aspetti? Iscriviti Scegli X Willy Per i migliori video di GTA Online Non mi dovresti neanche più far parlare Cioè ormai lo dovresti sapere a memore Iscriviti E' un tasto rosso E' bello Capisco che magari può essere bello vederlo rosso No? Color rosso Però ti assicuro che anche grigio è il suo fascino ecco Comunque sia Let's go Andiamo al Dove andiamo in realtà? Non devo andare da nessuna parte Quindi pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA Online? Bene Contattami su Instagram Link qua sotto nella descrizione Ok Il dinghi è stato confermato Cioè è stato consegnato Non confermato Chiamiamola Pegasus Pegasus Ok eccola qui Armati? No Insurgent Pickup Militari no Elicottero Elicottero Imbarcazioni Scam 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 Ed eccola lì ragazzi La magia Yeah Che bello Allora L'unica cosa che gli posso dare di positivo a sto mezzo È di colore diverso Il dinghi normale è di colore nero Tutto nero Qui invece abbiamo verde militare Arancio Ci sta bello carino Però ovviamente Questo non giustifica Il prezzo La mitragliatrice invece Vabbè è una calibro 50 Cioè non Esatto Niente di più e niente di meno Poi ragazzi proviamo a guidarlo E vediamo un attimino come va sto mezzo Ripeto peccato per la pioggia Che è giustamente arrivato il temporale Però Poco ci possiamo fare ragazzi D'altronde Allora la velocità mi pare uguale a quella del dinghi normale Onestamente Non noto Particolari differenze Cioè Forse se c'è veramente minimo E boh raga Cosa volete che io vi dica In merito a sto veicolo Cioè non Non c'è niente da dire Se non scam Racchiudiamo tutto con un'unica parola Cioè adesso Perdonatemi Ma Ma serve realmente Il dinghi armato Cioè veramente È necessario Voglio vedere quanto è forte Almeno sta calibro 50 Adesso mi metto lì davanti Ok Lì che c'è sta sta bella barca Vediamo quanto ci metto A fare esplodere sta barca ragazzi Quanto rinculo Al di là del rinculo È tutto Ma che cavolo fa sta barca Cioè raga appena sparo va indietro praticamente Capito Ragazzi Prende velocità quanto sparo Cioè Eppure fatta male se vogliamo Capito Perché non dovrebbe pigliare velocità quanto va indietro Perdonatemi un attimo di fare una cosa No Sono curioso Mi è venuta una curiosità Ah ok La kurz costa 2 milioni e 216 mila Però raga Eeeh Cioè A che mi serve sta roba qua Capito La velocità è praticamente Quella di un dinghi normale Non Niente di più e niente di meno L'agilità è uguale È un dinghi A tutti gli effetti Il dinghi Ok Con l'unica aggiunta Del colore diverso E della mitraglietta Che non è manco Tutto sto granchè Perché rincula tantissimo E Boh ragazzi Non Non so che dirvi Io veramente rimango Interdetto Quanto vedo ste robe qua Cioè perché Beh a sto punto Boh Spero sia blindato Lo provo Provo a buttarlo qua Perché l'ho buttato sulla spiaggia in realtà Cioè spero almeno resista Tipo a Boh Tre colpi di lanciarazzi Vediamo Ne sparo uno Niente Con uno va giù Non è manco Blindata sta roba qua Io ragazzi Non c'ho parole Per descrivere sta roba qua Veramente Con quale coraggio Con quale coraggio Cioè ci vuole coraggio Per rendere acquistabile Una roba del genere A un milione e otto Poi Cioè non è che dici Sai te metto la mitraglietta Quanto può costare Una mitraglietta 50 mila Ed è già tanto No 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 Cioè hanno il coraggio Di spacciartelo Come veicolo Da due milioni Praticamente Cioè ragazzi Così su due piedi Se proprio dovete prendere Un'imparcazione militare Che abbia Delle mitragliette Pigliate il curso Cioè tutta la vita Almeno il curso Uno è blindato Se non mi sbaglio Resiste tipo a tre Quattro colpi Ma cosa più importante Se non altro Ha tipo Quattro postazioni da fuoco Tre postazioni Una roba del genere E quella davanti Per giunte Doppio calibro 50 Quindi Buo ragazzi Cosa volete che io vi dica Veramente Non ho parole Per descrivere Tutto ciò Dov'è che sta Sta roba Perché lì Ma che spawn è lì Cioè mi butto Dal pontile Ovviamente Gli spawn Sono sempre Quelli di gta Sia mai Lo spawn Degno di nota No Non c'è un modo Per descrivere Sto veicolo qua Se non Mo così su due piedi Vi faccio vedere A cosa lo paragono io E no Ma polizia Ma fategli affaracci vostri Cioè voglio dire Non sono manco libero Di distruggere un veicolo mio Ma in che mondo viviamo Ho fatto la demolizione Qual è il problema Ecco raga Esempio preciso Il car in technical È lui Cioè il car in technical È questa barca qui Cioè Per giunta C'ha un bonus Questa qui Rispetto alla barca Che può andare sulla terra E voglio dire Costa un milione Centoventimila Il prezzo è quello Cosa che ci fanno Due escursionisti qua Cioè da dove arrivano Che è tutto mare Boh raga Ripeto onestamente Non so che dirvi Io parcheggio qua Cioè Per carità Bello il colore Ma Ma non lo so Non l'avrei messo Acquistabile A sto prezzo Cioè capito Eppure questi veicoli Qui potrebbero essere Interessanti Se sfruttati All'interno di una modalità Che Rockstar Non farà mai Vedrò se riuscirò A farla io Sotto forma di LTS Vi terrò aggiornati Va Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sperare Se vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo acquistato E provato Questa Barca qui Il dinghi armato Che onestamente Lo reputo Un mezzo Molto Ma molto Deludente È un bene Che ci sia All'interno di GTA Ma Non acquistatelo Se non per Collezionismo Quindi ragazzi Come al solito Vi ricordo di lasciare Un bel like Mi raccomando Superiamo assolutamente I mille like Se volete altri video Di questo tipo Ma soprattutto Condividete il video Come da pazzi Su tutti i vostri social E di scherzo canale Per non perdervi i futuri video Quindi Se volete passare È tutto Bella raga Ciao